Né Garibaldi, né Bixio, né Lachi Luciano hanno attraversato a nuoto, l'unico sono stato io! Ma presto, Giovanni, fermo che sei vantato da lì! Andate dentro a due, respira dentro a due! Respira a due! Arte il duro, arte il duro! Vai tranquillo! Vai così! C'erano i bookmaker dall'Inghilterra che scommettevano sul mio infarto nel primo miglio! Ma cazzo! Nessuno credeva che io potessi venire a nuoto da voi! Allora, stasera è una puntata fantastica perché i collegamenti saltano, eccoli, poi tornano, mi scuso con Luigi Di Maio, ecco, lo vediamo, ce l'abbiamo? Mi sente? Sì, 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 io vi sento e credo anche di... Stasera è un pochino ubriachello. Allora, senta, questi erano cinque anni fa, diciamo che in qualche maniera, vabbè ragazzi, però così è dura, eh! Allora, in attesa che mi ripristino il collegamento, io voglio chiedere subito a voi una cosa, voglio chiedervi perché Di Maio, la domanda che avrei fatto di Di Maio, la voglio fare a voi. Per loro sono molto importanti queste elezioni regionali, la regione Sicilia forse è per loro la regione più simbolica, più importante, ecco, Di Maio mi sente? Mi sente? Io la sento, lei sente almeno? Sì, adesso la sento. Ha detto, queste elezioni siciliane sono più importanti del referendum costituzionale, quello insomma che aveva portato poi alla dimissione di Renzi. Allora, insomma, naturalmente io vi auguro che voi vinciate, per voi, ma nel caso che non doveste vincere, quali conseguenze politiche trarrebbe Luigi Di Maio? Beh, io ho detto che sono più importanti del referendum costituzionale perché qui c'è prima di tutto da dare uno schiaffo all'arroganza e alla prepotenza della politica. Guardi, io ho conosciuto benissimo i siciliani negli ultimi tre mesi, abbiamo fatto qualcosa come 10.000 km insieme a Giancarlo Cancelleri per parlare ai siciliani. Negli ultimi tre mesi i siciliani mi hanno detto, noi siamo stufi di vedere utilizzata la Sicilia in chiave nazionale di governo un milione di voti in più alle politiche. Però ci hanno anche detto, queste sono le elezioni per dare uno schiaffo alla loro arroganza di chi candida uno che sta in galera o candida uno con 33 capi di imputazione legati alla sanità, ai trasporti siciliani, ai problemi legati per esempio alla formazione. Cioè, qui il vero tema di domenica 5 in cui si voterà questa domenica è che con questo voto si decide se la politica può continuare ad essere così arrogante da candidare uno che sta in galera oppure di cominciare a mandare a casa questo atteggiamento. E se dovesse passare, e concludo Formigli, se dovesse passare l'idea che tu vuoi prendere uno che sta in galera e candidarlo perché ti servono i suoi voti, allora questa idea sarà ancora più forte alle prossime politiche in cui candideranno di tutto. Quindi queste elezioni sono molto importanti e noi non chiediamo di andare a votare per noi, noi chiediamo di andare a votare. Cioè, noi chiediamo ai siciliani di andare a votare perché se non vi astenete gli impresentabili diventeranno una piccola minoranza in un angolo dell'Ars. Il partito del rinnovamento, il partito nuovo che voi vi proponete di essere, perché Berlusconi, condannato, indagato, 81 anni, è ancora così forte? C'è un problema di, in qualche maniera, credibilità della vostra classe dirigente? Cioè, siete nuovi ma i vostri candidati, i vostri futuri assessori rischiano di non essere considerati abbastanza forti per poter affrontare un'impresa come quella della Sicilia? Questo vediamolo lunedì, quando si faranno gli spogli, perché qui il risultato arriverà penso verso mezzogiorno di lunedì, il risultato delle elezioni regionali. Però le dico una cosa, perché a volte forse io mi spiego anche male, voglio anche dire questa cosa. Qui il tema non sono i processi o le condanne, qui il tema sono i reati in cui sono coinvolti questi signori che vengono definiti impresentabili. Cioè, se nello Musumeci si riempie le liste di gente che, secondo l'accusa, ha lucrato sulla sanità, ha lucrato sui soldi ai poveri nei comuni, ha lucrato sugli appalti delle autostrade che poi crollano, è logico che noi siamo preoccupati, perché quella gente, se ritorna nella regione siciliana dalla porta del governo, non solo si sentirà invincibile, ma continuerà a fare quello che ha sempre fatto, raccattare voti, toccando quelli che sono i diritti dei siciliani. Quindi domenica non è in ballo nella storia politica del movimento di Forza Italia o di Berlusconi o di Di Maio o di altri. Domenica sono in ballo i servizi dei siciliani, che sono stati il bancomat della politica. Poi, guardi, tutti possiamo migliorare, io non dico che siamo perfetti e ci mancherebbe, sarei un arrogante a dire questo. Però le dico anche, lei ha fatto vedere Grillo che attraversava lo stretto a nuoto. Beh, negli ultimi cinque anni in questa regione, quando è crollato il ponte della Catania-Palermo fatta dalla classe dirigente esperta, quando è crollato quel ponte, noi ci siamo tagliati gli stipendi e abbiamo costruito in 37 giorni la strada che ha fatto risparmiare un'ora di tempo da Catania-Palermo, la famosa trazzera. Cioè, abbiamo dato dei segnali di credibilità e soprattutto di promesse elettorali mantenute con gli elettori che avevamo nel programma. Però c'è un elemento, poi do la parola a Antonio Caprarica che ha una domanda per lei, che mi colpisce. Voi ora attaccate Musumeci, dite che Musumeci si tiene gli impresentabili nella lista e quindi, diciamo, in qualche maniera anche lui ha delle cose da farsi perdonare, ha delle ambiguità, però voi lo avete votato come capo della commissione antimafia della regione Sicilia, che è un ruolo, diciamo, non di secondo piano. Lo avete votato. Allora Salvatore Gulisano è andato a chiedere a Musumeci, a Cancelleri, al vostro candidato presidente, perché questa contraddizione. E sentiamo che cosa ha risposto Cancelleri. Grillo cinque anni fa era arrivato a nuoto, si è cambiato i cinque anni. I cinque anni è una meraviglia, siamo qua per un referendum. Referendum tra voi Musumeci? Sono il referendum tra un mondo e un altro. Ci sono gli impresentabili, perché i valori morali che c'erano una volta non ci sono più e non ci sono valori nuovi. Voi riuscite a fare una selezione? E noi riusciremo a inserire per almeno qualche valore. I cinque stelle attaccano da giorni il centrodestra sugli impresentabili e dopo che Musumeci ha fatto l'appello per non votarli, attaccano direttamente anche lui. Voi siete stati nel Parlamento siciliano, c'eravate anche voi a votarlo quando lui era stato messo a capo della commissione antimafia. Quindi vuol dire che prima vi fidavate, ora invece solo perché vostro avversario politico lo attaccate oppure avete cambiato idea? No, no, no. No, non ci siamo sbagliati. In un momento di difficoltà della sua vita personale abbiamo creduto tutti, facendo un ragionamento che di politica non aveva nulla, ma era un ragionamento umano che in quel momento era giusto dargli anche uno scopo. Cancelleri ha appena detto di aver votato Musumeci a capo della commissione antimafia, non per le sue competenze, ma per compassione, citando la morte del figlio trentenne. Abbiamo dovuto dargli un attestato di stima umano, perché lui in quel momento aveva subito una grave mancanza. Ecco, lei condivide questo ragionamento con il massimo rispetto per la tragedia ovviamente di Musumeci, li siamo tutti vicini, però Cancelleri dice noi abbiamo messo, votato Musumeci per questioni extra politiche, per questioni umane. Ecco, però è comprensibile per lei questo tipo di ragionamento? Guardi, le dirò di più, io più volte parlando con Giancarlo Cancelleri, ma anche con tanti siciliani, tutti mi hanno detto ma Musumeci è una brava persona, il problema è che quando si candidava per provare a vincere con brave persone nelle liste, non vinceva. Adesso ha venduto l'anima al diavolo mettendosi dentro quelli che erano i candidati di Miciche, cioè l'uomo forte di Berlusconi in Sicilia, che candida anche quelli che stanno in galera. E questo è il problema vero, lei non sa quanta gente di destra qui sto incontrando in Sicilia che mi dicono ma come, Musumeci era il riferimento della vecchia destra siciliana, quella delle regole, della meritocrazia e si fa fare le liste da Miciche, che è l'uomo di Berlusconi che ha candidato gli impresentabili, si fa fare gli assessori, la lista degli assessori sempre da Miciche e allora io che lo voto a fare Musumeci se mi devo ritrovare Miciche, questo me lo dicono da alcune persone. Caprarica, io capisco naturalmente che è forse più fruttuoso per una forza politica puntare il dito sugli impresentabili dell'altro fronte e questo è comprensibilissimo, anche se ho molti dubbi su questa persistente polemica e retorica contro la politica, come ci ha detto lei all'inizio, la politica piazza gli impresentabili. Perché invece il suo partito, perché ormai di questo si tratta, non punta non solo il dito, ma le proposte politiche contro un sistema di potere che è ben preciso e determinato che ha nomi e cognomi e intanto non propone anche delle misure concrete per smontarlo. Faccio un piccolo esempio, ammettiamo che i Cinque Stelle vincano questa partita elettorale in Sicilia. Mi dice che cosa farete dei famosi 22 mila forestali che fanno ridere tutto il mondo e che una settimana fa qui noi mostravamo come un esempio del malcostume siciliano. Mi dice che cosa farete delle varie normative varate dall'Arsa, ad esempio l'ultima, quella di cui erano pieni giornali oggi, secondo cui i funzionari pubblici non hanno l'obbligo di legge di provvedere allo smantellamento degli edifici abusivi. Glielo chiedo perché, se non mi sbaglio, anche dalle sue file più di qualcuno ha parlato certe volte di abusivismo di necessità, che è una fantastica foglia di fico per coprire molte brutture delle spiagge siciliane. Forestale e abusivismo? Allora, prima di tutto sulla questione degli operai forestali, qui il vero tema è che non sappiamo ancora se sono tanti o sono pochi, per la semplice ragione che non lavorano a tempo pieno. Non sappiamo che sono tanti di maio, perché abbiamo mostrato una settimana fa che in Canada ce ne sono 4 mila, in Sicilia 23 mila. Sì, ma qui il tema è che queste persone noi le vogliamo prima di tutto destinare a tempo pieno sia ai beni culturali, sia alla tutela del territorio, sia alla tutela del dissesto idrogeologico. Poi, una volta che le avremo messe a tempo pieno, perché queste persone a volte non lavorano neanche il 50% di tutto l'anno, allora capiremo se ci servono tutti oppure no. Il vero tema dei forestali è che si danno i valori assoluti, ma non si dice quante ore lavorino durante l'anno, ed è per questo che poi mi chiedevo come fosse possibile che comunque le foreste e i boschi sono in queste condizioni in Sicilia che vanno a fuoco ogni estate, oppure sui beni culturali siamo totalmente scoperti nella gestione. Allora qui si deve fare un accordo chiaro con quelle persone, noi abbiamo bisogno di personale in varie risorse di questa regione, sarete destinati a quei siti, sarete destinati a quegli ambiti, poi chi non vuole lavorare come in tutti i posti della pubblica amministrazione deve essere allontanato, chi invece vuole lavorare a tempo pieno allora ci aiuterà a far ricrescere la Sicilia. Per quanto riguarda invece, e rinascere soprattutto, per quanto riguarda invece la sua domanda sulla questione dell'abusivismo, prima di tutto ci sono le sentenze dei tribunali che i sindaci devono ottemperare, il nostro assessore agli enti locali è Angelo Cambiano che è stato sfiduciato perché aveva ottemperato le sentenze dei tribunali per abbattere gli edifici manufatti abusivi, Angelo Cambiano era l'ex sindaco di Licata, oggi è il nostro designato assessore agli enti locali, abbiamo dato anche un segno chiaro su qual è la nostra idea di rispetto della legge in questa regione. Di Maio, voi avete avuto però un sindaco a Bagheria che è dei 5 Stelle ed è un sindaco che non ha abbattuto neanche una delle grandi ville abusive che ci sono a Bagheria e che vive in una casa che a sua volta non è condonata, la sensazione è che poi quando si iniziano si entra nel fare le cose, le difficoltà siano tante, che sia Forza Italia, che sia prodemocratico, questione 5 Stelle, poi quando si tratta di buttar giù con le ruspe non riesce a farlo nessuno, questo problema qui lo rileva anche lei oppure no? Mi permetta, mi permetta, cioè Patrizio Cinque che oggi è sospeso dal movimento per un'altra questione che non riguarda l'abusivismo, che è il sindaco di Bagheria, è stato anche minacciato per aver iniziato gli abbattimenti di ville legate alla criminalità organizzata mafiosa. Io le dico con molta franchezza, domenica è una grande opportunità per la Sicilia perché si decide in mano a chi mettere i superpoteri dello statuto speciale, pensiamo solo al fatto che Lombardia e Veneto hanno fatto un referendum per cercare di ottenere la metà dell'autonomia in questa regione già, quei superpoteri o li mettiamo di nuovo in mano a quelli che l'hanno già governata questa regione, Miciche, Cuffaro, Lombardo e le case abusive vanno buttate giù, perché se non date un segnale voi che siete un partito di rottura o vi dichiarate tali, il problema è che a Bagheria le ville sulla costa stanno là. Ma chi ha detto il contrario? Le sentenze dei tribunali dicono che si devono abbattere e si abbatterono, quando in alcuni casi non si possono abbattere si acquisiscono a patrimonio pubblico, questo lo abbiamo sempre detto e lo continuiamo a dire a tal punto che abbiamo reclutato come assessore agli enti locali il sindaco che è stato sfiduciato perché abbatteva le case, ma che altro le devo dire io sugli abbattimenti? Non mettete più, non insinuate più su di noi alcune cose che non sono vere. No, noi non insinuo niente, noi abbiamo documentato una situazione ancora grave in Sicilia e anche a Bagheria, purtroppo ci auguriamo che non sia più così. Certo, e l'hanno creata gli esperti della politica, l'hanno creata quelli lì che oggi dicono che vogliono salvare questa regione, sono quelli che l'hanno massacrata, questa è una regione che nel 2015 ha perso 100 mila cittadini, ed è al 22% di disoccupazione. Noi vogliamo parlare di programmi, parliamo di sanità, parliamo di tagli degli sprechi per metterli nei soldi per fare stagio per i giovani presso la regione. Cominciamo a parlare dei temi, come diceva Capranica. Allora, con Luigi Di Mario in collegamento dalla Sicilia, da Caltanissetta, con Antonio Craparica e Peter Gomez, vi faccio ascoltare un breve intervento di Alessandro Di Battista. Ascoltate. Io non vedo l'ora, per me sarebbe una soddisfazione anche ai personali immensi. Vedere Giancarlo Cancelleri, presidente qui in Sicilia, e vederlo nei primi settimane addirittura, scrivere una legge, un'unica legge che racchiude il taglio delle auto blu, la polizia dei vitalizi regionali e il dinerzamento degli stipendi. Siamo politicamente corretti? No, siamo onesti. Sapete come la chiameremo questa manovra? Manovra suca! la chiameremo questa manovra? Mandatelo a fampuro e mandiamoli via! Andiamoli via! Così Di Mario, cosa sarebbe la manovra, la legge suca esattamente? Sostanzialmente ammetterà che Alessandro riesce sempre a trasmettere il senso anche di una proposta di legge. Sono due righe di legge, aboliamo 17 milioni di euro di vitalizi, grazie allo statuto speciale possiamo abolirli qui, agli ex deputati regionali e tagliamo e dimezziamo quindi lo stipendio ai deputati regionali. Questi soldi li mettiamo in due progetti, uno per far fare ai giovani degli stage presso la regione siciliana, giovani siciliani che stanno per emigrare invece devono avere un'opportunità di formazione e lavoro qui e un'altra parte li mettiamo invece in un progetto per le giovani donne in gravidanza che sono libere professioniste, li affianchiamo un tutor per gestire la loro professione durante la gravidanza. Senta Di Maio, anche voi avete lo stesso problema probabilmente di Musumeci, se vincete le elezioni stando così numeri dovrete trovare poi una maggioranza all'assemblea regionale siciliana. A me colpisce che le uniche aperture sono arrivate dalla lista di Claudio Fava, Claudio Fava che ha fatto capire che forse potrebbe darvi una mano, però lo stesso Claudio Fava vi accusa di essere non sufficientemente incisivi o teneri nei confronti delle cosche e fa due esempi. Dice, Gianni secondo me dice Fava, parlano poco di questione mafiosa nei loro comizi, non sono mai andati in luoghi simbolo della mafia come Castelvetrano, la città di Matteo Messina Denaro e in più c'è stata una polemica dura negli ultimi giorni nei confronti di un vostro candidato, Lidestri, che è proprio il costruttore della famosa strada, della famosa trasfera, il quale da atti giudiziari è saltato fuori a essere il cugino di un presunto boss mafioso e addirittura secondo questi atti giudiziari, secondo la lettura che davano i carabinieri di una serie di incertazioni, non avrebbe denunciato il pizzo. Ci sono state una serie di querele eccetera. Sul punto di Drestri le chiedo, ma voi, come eravate a conoscenza prima di questa operazione antimafia che risale a tre anni fa, conoscevate queste carte, avete fatto una valutazione oppure la valutazione la fate solo adesso, nel momento in cui il caso è sporoso e Lidestri ha detto non è vero niente, l'ho già spiegato ai carabinieri. Quindi caso Lidestri, perché non siete mai andati a Castelvetrano, città simbolo della lotta alla mafia, la città di Matteo Messino Denaro e perché pronunciate così poco, vi accusa Claudio Fava, la parola mafia? Prego. Allora, prima di tutto partiamo dall'ultima cosa. Fava è stato querelato per quello che ha detto, perché Lidestri non sente suo cugino da 30 anni e tra l'altro non si evince dalle carte che si erano sentiti, tant'è vero che gli stessi carabinieri che lo hanno interrogato Lidestri e le stesse carte lo individuano come parte l'ESA, ma lui stesso ha detto che non ha mai ricevuto richieste di pizzo, non ha mai pagato il pizzo e i carabinieri non lo hanno mai indagato per nulla, nonostante lo abbiano anche ascoltato. Ovviamente le carte della magistratura, noi non le conoscevamo, ma la persona candidata aveva detto a Giancarlo Guardate che io non sento mio cugino da 30 anni, Giancarlo Cancellero ovviamente lo sto dicendo. Quindi su questa questione qui mi dispiace perché io Claudio Fava lo stimo per il lavoro che fa nella commissione antimafia e dovrebbe sapere benissimo che prima di fare la cosiddetta mascariata, come si dice in siciliano, dovrebbe leggersi bene gli atti, tant'è vero che questa cosa poi ha avuto la reazione della persona che ha dovuto querelare Claudio Fava e ci dispiace anche perché è inutile arrivare alle querele, basterebbe stare attenti. Precedentemente invece vi dico, io ogni giorno attraverso qua simboli della lotta alla mafia e questa è una regione che a causa della mafia in alcune parti per fare 30 chilometri devi fare un'ora di tragitto e perché? Perché politica e organizzazioni criminali hanno lucrato sulle strade, sulle infrastrutture, sulle autostrade, sulle ferrovie, ci sono province che non hanno ferrovie, alcune hanno ancora la littorina a gasolio, io parlo di mafia, ogni qualvolta denuncio i disservizi di questa regione perché è il frutto di una commistione tra politica e mafia, non è un caso che degli ultimi tre Presidenti di regione, due siano stati coinvolti in processi legati alla mafia, uno lo avete anche intervistato prima. Quindi noi come vogliamo combattere la mafia? Tra l'altro la mafia si combatte, non è che se ne debba parlare troppo in campagna elettorale perché i siciliani non ne possono più di sentir parlare soltanto, la mafia si combatte estinguendo o mettendo all'angolo quella parte di politica che è sempre scesa a compromessi con la mafia e che anche nello schieramento di Musumeci è che oggi viene a dire che vuole salvare questa regione, perdonatemi, è l'arte dei pazzi. Perché domani che è l'ultimo giorno di campagna elettorale non andate a Castelvetrana come gesto simbolico? Domani siamo a Palermo, se vuole andiamo a Via D'Amelio, se vuole andiamo a Capaci, ma sinceramente io di queste passerelle nei luoghi della sofferenza di questa terra e dei siciliani ne ho già abbastanza. Cambiamola questa regione, utilizziamo lo statuto speciale per cominciare a cambiare veramente le cose, dobbiamo solo andare a votare domenica, nient'altro io sto chiedendo, solo di partecipare alle elezioni. Caprarica, a questo punto accantoniamo un attimo la Sicilia e parliamo con Luigi Di Maio il giorno dopo le elezioni nazionali, immaginiamo che abbia ricevuto il mandato dal Presidente della Repubblica. Si presenta in Parlamento, così continuate a dire, noi ci presentiamo in Parlamento, presentiamo i nostri provvedimenti. Mi piacerebbe tanto sapere, non dico i primi cento giorni, quali saranno i vostri primi provvedimenti, ma sa perché mi piacerebbe saperlo? Perché continuate a dire, chi vuole li vota. Ora, gli unici che sembrano disposti a votarli, al momento naturalmente, sono i leghisti e in primis Salvini. Allora mi chiedo, ma che razza di provvedimenti state preparando? Riguardano forse la legittima difesa e la totale depenalizzazione della legittima difesa, se Salvini vorrà votarli? Riguardano l'immigrazione? Riguardano l'uscita dall'euro? Vorrei tanto capire quali sono i punti di convergenza programmatici tra voi e quel signore che continua a farvi l'occhiolino e al quale voi, per la verità, non è che proprio avete sbattuto la porta in faccia, se vuole può accomodarsi, l'ha detto lei stesso poco tempo fa, e votare i nostri provvedimenti. Quali? Prima di tutto le dico che io a Salvini non direi mai se vuole può accomodarsi, io sono un cittadino del sud e Salvini fino a qualche anno fa ci insultava dicendo Vesuvio lavali col fuoco o Etna lavali col fuoco, dipendeva dalle varianti regionali con cui insultava i cittadini del sud, quindi a quel signore lì ho sempre detto che non solo non ha nessuna credibilità, ma siccome qualche settimana fa si è votato la legge elettorale con Alfano, Berlusconi e Renzi per garantirsi qualche poltrona in più, per me ha perso anche quel bricelo di credibilità che aveva, è per questo che nei sondaggi lo vedete crollare a picco, come avete visto qualche frempa quando avete mandato i sondaggi. Io dico soltanto una cosa, noi ci presenteremo in Parlamento con una proposta chiara di programma elettorale, che è il programma elettorale che stiamo costruendo insieme ai cittadini, quella proposta la presenteremo al Parlamento, la presenteremo alle Camere e quella proposta se vorranno le forze politiche potranno votarla, tutti dicono le cose nostre, tutti vogliono abolire Equitalia, tutti vogliono fare uno strumento di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza, tutti dicono che servono leggi anticorruzione, facciamole allora, ma non c'è bisogno di fare un'alleanza con uno o con un altro, visto che siete tutti d'accordo noi vi presentiamo le leggi e voi ce le votate. Ma lei ha detto che vuole fare la rivoluzione liberale, l'ha detto oggi mi pare, che vuole fare la rivoluzione liberale che... Io non sento niente, mi dispiace ma io non mi sento più. Mi ripristinate l'audio di Luigi Di Maio? Mi sente adesso Di Maio? No, no, no. Benissimo, perfettamente. Allora, andiamo al collegamento con Luigi Di Maio, lo chiedo anche a lui. Di Maio, la possibile discesa in campo di Pietro Grasso, dal vostro punto di vista, politicamente apre uno scenario, è interessante, è un interlocutore col quale andrebbe a parlare in vista di una possibile alleanza? Ma guardi, è proprio questo che mi dà l'occasione di precisare ancora una volta, non ci sono né alleanze né coalizioni in prospettiva per il Movimento 5 Stelle. Grasso, se entrerà in Parlamento con la sua candidatura, il Presidente Grasso, con quindi il suo gruppo parlamentare, sarà uno di quei gruppi a cui ci rivolgeremo per la votazione della fiducia. Certo, il Presidente il Presidente Grasso ha lasciato il partito che attualmente governa questo Paese, il partito di governo, tanti siciliani mi dicono, ma com'è possibile che il PD accolga Verdini e lasci andare quello che è stato procuratore antimafia per sette anni? Beh, vabbè, questa è una fake news, diciamo, il PD non ha accolto Verdini adesso, non diciamo... Vabbè, la polemica elettorale va bene tutto, non mi risulta che Verdini sia entrato nel PD onestamente. Questo è un po' eccessivo. Ha detto chiaramente che è in maggioranza, ce l'ha detto quando ha votato la fiducia l'ultima volta al Senato della Repubblica, Capranica, l'ha detto lui, ha detto, noi siamo sempre stati in maggioranza, abbiamo votato anche... Non è entrato nel PD, è entrato in maggioranza, anzi, c'è sempre stato, dice lui. Ah, scusatemi, perché al governo non c'è il PD in questo momento. Senta, però, la domanda su Grasso, perché è importante secondo me? Perché, allora, intanto io le voglio chiedere, ma mettiamo il caso che alle elezioni nazionali, il voto non so se sarà il 4 marzo, non so voi cosa vi risulta, ma insomma, si va a votare, il giorno dopo mettiamo a scenario, secondo quello che ci dicono i sondaggi, il primo partito, diciamo il partito di maggioranza relativa, sono i 5 Stelle, secondo lei, in questo caso, se i 5 Stelle fossero il partito di maggioranza relativa, il Quirinale, Mattarella, dovrebbe dare necessariamente a voi l'incarico? Cioè, voi lo ritenete, diciamo, un diritto, questo? Beh, noi glielo chiederemo al Presidente della Repubblica nella fase delle consultazioni. Poi, io non mi permetto di tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, è lui che ha le prerogative in questa fase, quella dell'assegnazione dell'incarico sia esplorativo che dell'incarico per presentarsi alle Camere. È chiaro che noi, guardi, Formigli, la nostra sarà anche la grande operazione verità dei partiti, perché noi presenteremo alle Camere un programma che avrà dentro tanti temi di tutti i gruppi politici, che tutti avranno detto in campagna elettorale. E gli diremo, Presidente Grasso, lei parla di legge anticorruzione, la vogliamo fare? Ce la voti. Salvini, tu parli di abolizione di Repubblica, non l'hai mai abbonita in vent'anni di governo, la vuoi fare? Votala. Si può fare un governo in cui su ogni legge si va a vedere se c'è o non ce l'appoggio, perché altrimenti questo governo sarebbe molto, molto dutticante. Io sono d'accordo su questo, infatti ci siamo opposti al Rosatellum, perché faceva piombare in questo caos il paese, l'hanno voluto i vecchi partiti, ed è per questo che io nutro speranze nel fatto di non aver bisogno dei vecchi partiti per andare al governo di questo paese, perché dopo il Rosatellum deve essere chiaro ai cittadini che chi ha votato quella legge vuole far piombare nel caos l'Italia, basta non votarli più per farli sparire e avere l'occasione di un governo solido, ma soprattutto di una forza politica. Senta, lei oggi ha fatto un'intervista al quotidiano L'Avvenire, un'intervista in cui a proposito del vostro programma economico dice che è inutile girarci attorno, bisogna tornare a fare deficit, bisogna fare deficit per fare le riforme che vogliamo fare, ma scusi con questa logica del deficit non è la logica che ci ha portato a carte 48 come stiamo adesso, nel senso fare deficit per fare le proprie politiche, non è il modo con cui la vecchia politica ha scaricato sui giovani poi un enorme debito che è quello che ci troviamo oggi? Guardi, la ricetta di questi anni è stata fallimentare, perché per restare nei parametri europei noi segniamo un nuovo record del debito pubblico continuamente. Che cosa hanno fatto Spagna e Francia in questi anni, che sicuramente sono paesi che avevano difficoltà economiche, magari non avevano il debito pubblico così alto, ma in ogni caso loro neanche lo stavano riducendo, stando nei parametri. Hanno chiesto alla Commissione europea di sforare i parametri del 3%, hanno preso quei soldi e la Francia li ha messi nelle politiche alle famiglie, significa che pagano babysitter, pannolini, scuola ai bambini neonati o ai bambini più grandi, che significa anche aumentare le nascite. Noi siamo l'ultimo paese per nascite in Europa, la Francia è il secondo paese per nascite, la Spagna invece ha abbassato il costo del lavoro alle imprese facendo aumentare il lavoro. Loro sono paesi che vanno meglio di noi e ripagano il debito, perché facendo investimenti si ripaga il debito, cosa che invece in Italia non funziona. Noi ci siamo svenduti gioielli di Stato, Ansaldo Breda, Ansaldo STS, pezzi di Tern e di Cassa Depositi e Prestiti per ripagare un debito che continua a crescere. Quindi facciamo un po' di deficit per ripagare anche il debito con quegli investimenti. Gomez, mi sembra... No, vorrei dire lo proposito di economia, perché questo è molto importante. Rapidamente voglio sentire anche Gomez. Sì, ma molto rapidamente ti convince che Antonio... No, perché mi pare assolutamente in contraddizione con la rivoluzione liberale di cui parlava questa mattina. Se vuole fare la rivoluzione liberale devi seguire la strada esattamente opposta. Lasci perdere Francia e Spagna. La Spagna aveva il 60% del debito, la Francia non arrivava al 90%, noi siamo al 132%. Allora se lei continua invece a dire o a prospettare delle misure di sostegno e come dire di supporto pubblico o una presenza importante dello Stato in economia è il contrario di quella rivoluzione liberale di cui invece aveva parlato. Oltretutto le faccio presente. Per quanto riguarda il sostegno al costo del lavoro, alla riduzione del costo del lavoro. Beh, in Italia è stato tentato e voi avete sparato ad alzo zero, se non mi sbaglio, contro il governo Renzi su questa materia. Di Maio e poi Gomez. Allora, prima di tutto diciamo le cose come stanno. Quando lei parla del tentativo di riduzione del costo del lavoro in Italia sta parlando del Jobs Act. Io qui in Sicilia nelle piazze incontro tre categorie di persone, chi gli ha rovinato la vita il Jobs Act, chi ha rovinato la vita la legge Fornero e chi gli ha rovinato la vita la legge sulla buona scuola. Queste tre leggi le vogliamo abolire e sicuramente non stiamo parlando del Jobs Act come misura per la riduzione del costo del lavoro. La Spagna ha fatto investimenti strutturali, che significa, ha detto agli imprenditori, state tranquilli che sarà sempre questo il costo del lavoro d'ora in poi. Non è che per tre anni ve lo abbassiamo e poi tra tre anni il costo del lavoro è molto più radicale della nostra. Però guardi che in Spagna hanno abbassato gli stipendi dei dipendenti pubblici in una maniera molto drastica. Io non voglio abbassare gli stipendi, voglio abbassare il costo del lavoro alle imprese. Poi mi permetto di dire un'altra cosa sulla questione della rivoluzione liberale. La rivoluzione liberale in questo Paese significa che lo Stato la smette di sprecare soldi nella pubblica amministrazione o nei privilegi della politica. E per fare questo, invece di licenziare i commissari alla spending review che sono stati licenziati in tutti questi anni, andiamo a tirare fuori dai cassetti quei progetti che dicevano che in Italia ci sono 8.000 società partecipate e ce ne servono al massimo 1.000. E cominciamo ad abolire i consigli di amministrazione? Perché non cominciate a chiuderle? A cominciare dal Comune di Roma? Mi sembra che lo state facendo. Infatti l'assessore Colomban, capranica, a me dispiace, magari qualche volta ci possiamo anche confrontare, però il nostro progetto passa da 11 a 9 partecipate. Abbiamo preso l'Atac, che è la più grande società di trasporti di Roma e l'abbiamo portata davanti a un giudice con il concordato preventivo in continuità. Abbiamo detto a quel giudice adesso tiriamo fuori le responsabilità, ma soprattutto tagliamo gli sprechi. Quindi non solo abbiamo accorpato le partecipate, ma per la prima volta abbiamo portato in un tribunale la mangiatoia della politica, che era una società che invece di dare trasporti ai romani dava vantaggi ai politici. E noi abbiamo tirato fuori e cacciato da Atac la parentopoli di Alemanno. Le ha licenziati l'assessore Meleo, quelli assunti con la parentopoli di Alemanno. Quindi su questo credo che abbiamo la credibilità per affrontare questo tema. Di Maio, lei ha annunciato che prima delle elezioni politiche arrenderà nota la sua squadra di governo. Volevo capire, uno, se tutto in parte. Due, come crede di trovare in Italia professionisti di alto livello disposti a mettere la faccia non solo sui 5 Stelle, ma su qualsiasi partito? Non è mai successo in Italia che qualcuno che non fosse un politico era disposto a dire prima, qualcuno di credibile diciamo, che fosse disposto a dire se io mi spendo per loro e quindi farò il Ministro. La nuova che le sta trovando? Lei non ha idea di quante persone mi stiano contattando, profili alti in Italia, che vogliono prendere parte a questo progetto. Quindi io credo di riuscire a presentare la squadra di governo prima delle elezioni politiche. Sarà una squadra di governo che non si dividerà tra interni, esterni, politici, tecnici, metterà dentro persone giuste al posto giusto. È una grande sfida, non la faccio semplice, come diceva lei, la sfida esiste ed è una grande sfida proprio perché magari alcune persone hanno paura di metterci la faccia, soprattutto prima delle elezioni. Però sarà anche una grande opera di semplificazione, nel senso che diremo ai cittadini italiani, guardate questa è la nostra squadra, non vi chiediamo di votare a scatola chiusa, dovete sapere anche quali saranno i ministri, in modo tale che loro poi con serenità possano scegliere il Movimento 5 Stelle oppure no. Noi cerchiamo di dare il massimo per comunicare anche quali saranno gli interpreti di un programma al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, alla Sanità. Quando guardate questa squadra di governo, scusi Di Maio, quando prevedete... Prima delle elezioni politiche, prima delle elezioni politiche, prima delle elezioni politiche. Prima di tutto ci saranno tutti i ministri dell'ipotetico governo 5 Stelle. Lavoreremo a presentare tutta la squadra, per esempio sul tema della sanità, io dico solo questo flash, qui in regione siciliana è allo sfascio, ed è allo sfascio prima di tutto perché la politica nomina i dirigenti della sanità, togliamo ai politici la possibilità e nominare i dirigenti, la sanità comincerà di nuovo a lavorare per i siciliani e non più per la politica siciliana, come è successo in tutti questi giorni. Ho un'ultima domanda, ci sta per raggiungere Oscar Farinetti che sarà qui con noi, ho un'ultima domanda per lei, avete deciso con Renzi allora questo confronto televisivo quando e dove lo fate? Tanto lo fate, è sicuro? Mi pare che sia sicuro, io avevo proposto la vostra rete, la 7 con il programma di Floris perché lui aveva proposto il programma di Floris e per quanto mi riguarda il programma di Floris è quello che in prima serata fa più audience, quindi a me interessava parlare a più italiani possibili perché io vedo in questo momento un patto tra PD e Berlusconi chiaro, sul Rosatellum, sulle intercettazioni telefoniche che oggi Gentiloni ha coronato il sogno di Berlusconi e quindi io di fronte al popolo italiano voglio chiedere a conto di questo patto strisciante tra sinistra e destra davanti agli italiani a Matteo Renzi in quel confronto. Vabbè però quindi l'ha proposto la 7, Renzi sembra che invece abbia proposto di farla la RA e non si è ancora capito insomma. Vabbè for me si sentiranno i nostri staff, ora l'evento importante non è martedì, è domenica si deve andare a votare alle elezioni regionali siciliane, poi i nostri staff si sentiranno e decideremo un po' come mettere a posto questa cosa. Grazie a Luigi Di Maio e ci vediamo tra pochissimo, grazie a Peter Gomez.